Introduciamo le trecce. In questo video vi mostrerò come fare le trecce. Cominciamo a lavorare qualche maglia a dritto. Adesso qualche maglia a rovescio. Le trecce vengono spesso fatte su uno sfondo di maglia rovescio, perché in questo modo vengono messe più in evidenza. Quando raggiungerete il punto in cui inizierete a fare la treccia, procuratevi un ferro ausiliare. Tenete il ferro ausiliare come fosse una penna e usatelo per passare le maglie dal ferro sinistro al ferro ausiliario. Per questa treccia prenderò tre maglie. Ve lo faccio rivedere. Tenendo il ferro ausiliario come fosse una penna, sollevate la prima maglia e la seconda e la terza. Noterete che il ferro ausiliario ha un incavo nel mezzo. Questo aiuta a mantenere le maglie sul ferro. Per dare più stabilità al ferro ausiliario, infilatelo nel lavoro. Dopodiché lavorate dritto le tre maglie successive che si trovano sul ferro sinistro. Adesso lavorate le maglie sul ferro ausiliario. Dunque estraete il ferro ausiliario dal lavoro, fate scivolare le maglie verso l'altra estremità del ferro ausiliario. Tenete il ferro ausiliario accostato al ferro sinistro. Questo vi agevolerà. Lavorate normalmente a dritto le maglie dal ferro ausiliario. Quando avrete finito di usare il ferro ausiliario, potete metterlo da parte per usarlo dopo. Dopo lavoreremo a rovescio alcune maglie sull'altro lato della treccia. E terminerete con delle maglie dritto. E alla fine del ferro potrete vedere che la nostra treccia prende forma. Trapposita Viagre Un�aje Quest